Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni di una volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi di vivere in essa affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovranna regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino. Estretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così io posso restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Apri le tue mani, Gesù, apri le tue mani, Gesù, io mi fanno un mondo intero. Apri le tue mani, Gesù, apri le tue mani, Gesù, io mi abbandono a te. Io credo solo in te, Gesù. Io credo solo in te, Gesù. Io credo solo in te, Gesù. Io credo solo in te, Gesù, io mi abbandono a te, Gesù. Dal Libro di Cielo, volume ottavo, capitolo 23, 7 febbraio 1908. Continuando il mio solito stato, stavo pensando al peso enorme che il benedetto Gesù sentì nel portare la croce. E dicevo tra me, Signore, anche la vita è un peso, ma che peso, specie per la lontananza di te, mio sommo, bene. In questo momento è venuto e mi ha detto, figlia mia, è vero che la vita è un peso, ma quando questo peso viene portato con me, ed alla fine della vita l'uomo si trova che questo peso lo può sgravare in me, troverà questo peso cambiato in tesoro, dove troverà le gemme, le pietre preziose, i brillanti e tutte le ricchezze da renderlo felice in eterna. Capitolo 24, 9 febbraio 1908 Avendo fatto la comunione, stavo dicendo, Signore, tenetemi sempre stretta con te, che sono troppo piccina, che se non mi tenete stretta, essendo piccina, posso smarrirmi. E lui, voglio insegnarti il modo come devi stare con me. Primo, devi entrare dentro di me e trasformarti in me e prendervi ciò che trovi in me. Secondo, quando ti sei riempita tutta di me, esci fuori ed opera insieme con me come se io e te fossimo una cosa sola, di modo che se mi muovo io muoviti tu, se penso, pensa tu alla stessa cosa pensata da me. Insomma, qualunque cosa che faccio io farai tu. Terzo, con questo operato insieme che abbiamo fatto, allontanati per un istante da me e vai in mezzo alle creature, dando a tutti e da ciascuno tutto ciò che abbiamo operato insieme, cioè dando a ciascuno la mia vita divina, ritornando subito in me per darmi al nome di tutti tutta quella gloria che dovrebbero darmi, pregando, scusandoli, riparando, amando. Ah sì, amami per tutti, saziami d'amore. In me non ci sono passioni, ma se ci potesse stare passione, quest'unica e sola ci sarebbe, l'amore. Ma l'amore in me è più che passione, anzi, è mia vita. E se le passioni si possono distruggere, la vita no. Vedi a quale necessità mi trovo di essere amato? Perciò amami, amami. Capitolo 25, 12 febbraio 1908 Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto Figlia mia, la timidezza reprime la grazia ed inceppa l'anima. Un'anima timida non sarà mai buona ad operare cose grandi, né per Dio, né per il prossimo, né per sé. Un'anima timida è come se avesse legate le gambe, che non potendo camminare liberamente ha sempre l'occhio a sé e allo sforzo che le mette nel camminare. La timidezza fa tenere l'occhio sempre in basso, mai in alto. La forza nell'operare non la attinge da Dio, ma da se stessa e quindi invece di rafforzarsi si indebolisce. La grazia, se semina, le succede come quel povero agricoltore che avendo seminato e lavorato il suo campicello, poco o niente raccoglie. Invece un'anima coraggiosa fa più in un giorno che la timida in un anno. Bene, cominciamo la meditazione degli odierni insegnamenti di Gesù. Cominciando dal dolce lamento di Luisa, circa il peso della vita. Penso che per lei, come ogni anima profondamente amante di Gesù, era aggravato dalla lontananza di Gesù, certamente una lontananza colmata dalle sue frequenti visite, ma la legge di questa vita terrena ha degli aspetti che valgono anche per quanto riguarda la dimensione sopranaturale. Qui quando noi riceviamo una visita, quando andiamo in qualche posto di bello in questo mondo, è legge che inizia questa sosta, questa vacanza, questa visita e finisce. E quindi non abbiamo, come dire, la possibilità di stare perpetuamente con le persone che amiamo o in vacanza, eccetera. Con Gesù non è così, perché si ha la possibilità di starci in perpetuo, tuttavia di godere la bellezza della sua presenza percepibile in questo mondo. Teniamo chiaramente fuori la Madonna, che chi lo sa, quello che ha vissuto nella sua anima, insomma, ma in questo mondo ordinariamente non è possibile, non lo era neanche per Luisa, quindi certamente si vive in stato di fusione con la Divina Volontà, ricevendone gli effetti assolutamente divini e soprannaturali e benefici di grazia, però è diverso godere anche della presenza della Santissima Umanità di Gesù, della sua persona, di poterci parlare a cuore a cuore, ricevere in maniera sensibile, come a Luisa capitava, agli attestati del suo amore, eccetera. E Gesù conviene con questo. È vero, realisticamente parlando, che la vita terrena è un peso, ci sono molti pesi a volte da portare. Ecco, il problema è dare un senso a quella che a volte è la fatica di vivere, perché il senso c'è e questo dipende dal grado e dal tasso della nostra fede. Gesù lo spiega. Quando questo peso viene portato con me, alla fine della vita, questo peso viene sgravato, cioè cambiato in tesoro, dove troverà le gemme, le pietre preziosi, eccetera, le brillanti e le ricchezze, no? La renderlo felice in eterno. Gesù ha chiaramente evidenziato questa dimensione che non è cancellata dalla vita, né nella divina volontà. Certamente non è la stessa cosa, ecco. Portare i pesi della vita, o come Gesù dice nel Vangelo, rinegare se stessi per andare alla propria croce ogni giorno, che è la stessa cosa, insomma, no? Stesso concetto, eseguirlo con la felicità e la gioia che derivano dal vivere nel divino volere, dall'avere il possesso di questo regno, oppure no, quindi c'è un abisso, ci sta. Però questa dimensione non viene eliminata e, ripeto, deve essere da noi caricata di senso attraverso la fede, sapendo che non c'è neanche una piccola fatica, operata o sopportata per amore di Gesù, che non si trasformerà in gemma, pietra preziosa o brillante. Quando questa vita terrena finirà? E noi sappiamo che la nostra vita terrena è un lento incedere verso la fine. Questa meditazione è iniziata da una decina di minuti e questi dieci minuti sono andati e sono dieci minuti in meno della nostra vita terrena, questo è indubbio. Dice, ma dieci minuti sui milioni di minuti che dobbiamo vivere sono nulla. Possono essere quello che vogliono, ma abbiamo comunque dieci minuti in meno. E ora che ho finito questa considerazione, abbiamo anche i secondi in meno che è durata questa piccola considerazione. La cosa importante è arrivare all'appuntamento con il Signore davvero carichi di pesi, diciamo così, pronti per essere trasformati in tesori, cioè portati sempre con Gesù, per suo amore, con la gioia e con la ilarità santa che deriva da vivere in comunione con Lui. Ecco, poi Gesù gli dà una piccola lezione del come stare sempre stretti a Lui, ecco, ovviamente in un orizzonte di fede. Chi è un pochino pratico già nella vita della Divina Volontà avrà riconosciuto che quello che Gesù gli insegna in realtà è, non so come nominarla, no? La tecnica del giro, vogliamo nominarla così, anzi, concentra tutta quanto una serie di cose, no? Perché il giro è il terzo punto. Il primo è la fusione con Gesù. Entrare dentro di me, trasformarti in me e prendervi ciò che trovi in me. Ora, questo ne sappiamo che si fa con un atto ben specifico che è appunto l'atto di fusione che ne ha, che ne conosciamo nella forma estesa. Si può fare anche molto semplicemente con un'invocazione richiedendo la Divina Volontà di fonderci in lei, quindi molto semplicemente. Si può fare personalizzandolo che è cosa ancora più profonda, ecco, e trasformante l'anima, quindi usare le parole proprie per questa operazione. però il fine di questo atto è entrare dentro Gesù e trasformarsi in Lui e prendere ciò che troviamo in Lui. È chiaro che questo non si può fare bene perché non ci sono nella vita di fede ordinariamente automatismi che funzionano da soli, no? Quindi c'è sempre una cooperazione della nostra anima, delle nostre facoltà. Quindi ascoltare la parola di Gesù e metterla in pratica così udiva nella messa di ieri è fondamentale perché come faccio io a entrare in Gesù e trasformare e prendere ciò che trovo in Lui se non conosco il suo pensiero e quello che vuole? La meditazione dei misteri della vita di Gesù la contemplazione della sua passione del suo stile che poi trabocca dalle sue parole è fondamentale la fusione in Gesù come dire supera ecco la scetica dell'imitazione di Cristo diciamo così, no? Ma la presuppone ecco essere riempiti dice Gesù di Lui io come sempre ritengo che questo medesimo esercizio si possa prendere e traslitterare proprio passo per passo per le anime devote alla Madonna insomma che quindi hanno lei come fine prossimo come termine di riferimento prossimo della spiritualità parlo in particolare alle persone che conoscono hanno fatto e vivono la consacrazione sapendo sempre che la Madonna è fusa con la Divina Volontà quindi fondersi con lei e fondersi con la Divina Volontà e con Gesù è è praticamente la stessa cosa certamente caratterizzata dai tratti mariani no? e quindi sicuramente il primo step può essere fatto con Maria ecco solo quando ci si è riempiti tutti di Lui si può tra virgolette uscire fuori ed operare in tutto insieme come l'atto di fusione dice Gesù facciamo tutto insieme fondiamoci a vicenda nella volontà nel desiderio nell'amore eccetera no? come se io e te fossimo una cosa sola ecco ecco là la fusione no? fossimo e fusi è c'è la stessa radice no? e e quando questa operazione è ben compiuta ecco si realizza un prodigio di fede di cui ordinariamente non ne abbiamo percezione sensibile che se ci muoviamo si muove Gesù in noi e viceversa se pensiamo pensi e pensa Gesù in noi e a quanto Gesù racconta accade anche il contrario quindi che ovviamente anche qui non ce ne accorgiamo ci viene un pensiero e lo riteniamo un pensiero nostro ma in realtà è un pensiero di Gesù in noi no? questo è una misteriosa ma feconda e vera dinamica che si instaura attraverso questa questo lavorio dell'anima tendente è unirsi e fondersi con Gesù col suo pensiero con il suo stile con le sue azioni col suo modo di essere di fare di operare di pensare eccetera che deve essere certamente sempre oggetto della nostra attenzione ecco e poi nel terzo punto spiega la dinamica dei giri quindi con questo operato insieme che abbiamo fatto va in mezzo alle creature dando a tutti e a ciascuno tutto ciò che abbiamo operato insieme cioè a ciascuno la mia vita divina e poi quindi ritorna subito in me per darmi a nome di tutti tutta quella gloria che dovrebbero darmi pregando scusandoli riparando e amando questa è una come comprendiamo è una vita chiaramente una vita di questo genere presuppone un amore vero nei confronti del Signore perché è un avere a cuore è un farsi personalmente carico dei suoi desideri e soprattutto della sua volontà di essere amato è bellissima la conclusione di questo capitolo dove Gesù dice ah sì amami per tutti saziami d'amore è un è un'espressione che dobbiamo fermarci a a contemplare no? noi non non comprenderemo mai sufficientemente bene questo aspetto conosciamo ma che non cessa di sorprenderci conosciamo ma sempre in maniera parziale e inadeguata Gesù viene a dire e qui parla in quanto Dio non in quanto uomo nemmeno ci sono passioni ma se ci potesse essere una passione è chiaro che qui parla della sua vita divina perché la santissima umanità di Gesù è come le passioni sante non le passioni intese come passioni peccaminose adesso qui si fa un discorso un po' complicato ma le passioni naturali che ha la parte inferiore della nostra anima di cui come insegnano i filosofi e i teologi classici tra cui spicca San Tommaso sulle orme di Aristotele l'amore è la prima è la più importante la preponderante passione del cuore umano l'importante è che sia indirizzata verso il bene Gesù dice l'amore è più che passione è la mia vita e se le passioni si possono distruggere e questo è vero perché in ascetica questo si può fare io posso prendere la passione dell'ira e anche se con molta fatica quando si opera con la volontà umana sostenuta dalla grazia posso metterla sotto i piedi e imparare con il prezzo di enormi sacrifici e sforzi a dominarla quindi a non arrabbiarmi più e quindi in un certo senso la uccido ecco le passioni quindi si possono distruggere ma la vita non si può distruggere questo dobbiamo metterci nel test anche noi dobbiamo ricordare ogni tanto certo noi passiamo per sorella morte corporale ma si chiama sorella morte morte corporale cioè la nostra vita il nostro essere la nostra anima non può morire questa è un'altra cosa che bisognerebbe mettersi bene in testa e e pensarci ogni tanto no questa è una meditazione per cui non è opportuno ecco andare su sollecitazioni un po' catechetiche no ecco però anche tante questioni attuali una piccola parentesi eutanasie o cose di questo genere aborti certamente hanno come realtà sottostante la mancata coscienza qualcuno può chiamarla credenza insomma ma che l'essenza della vita umana sia immortale ci si può arrivare anche facendo funzionare il cervello quindi non non semplicemente attraverso i dati di fede è chiaro che dice vabbè soffro quindi facciamo l'eutanasia così mettiamo un fine alle sofferenze e poi l'anima che fine fa? finisce la sofferenza del corpo e l'anima che fine fa? dopo ha questa gravidanza indesiderata facciamo fuori il ragazzino perché è l'anima di quel ragazzino che fine fa? quindi occorre molto pensare no? pensare meditare una delle nobili attività dell'uomo ecco e Gesù conclude con un'espressione insomma ancora più forte vedi a quale necessità mi trovo di essere amato perciò amami amami se uno volesse ecco sintetizzare insomma come dire in uno slogan dovrebbe essere un programma di vita no? signore Gesù io ti amo in tutto e dappertutto ti amo per tutti e poi c'è qualche anima generosa insomma che si mette in coda rispetto a una madonna perché con la madonna non si può competere però si mette in coda la madonna e poi esprime il proprio anelito ti amo e ti amerò più di tutti se se la sente insomma ecco come desiderio questa cosa si può si può esprimere non c'è niente di di peccaminoso ecco purché certamente non sia una mera velleità ecco che poi non corrisponda ad uno ad un ardore insomma ad un impegno ad una gioiosa messa in atto ecco della nostra volontà di amare Gesù e Maria infine l'anima coraggiosa è l'anima timida il coraggio allora il coraggio è una componente fondamentale della virtù cardinale della fortezza e però per i grandi dice Gesù ci vogliono anime coraggiose coraggiose perché il coraggio serve ad affrontare a superare le difficoltà e serve anche a concretizzare operativamente ecco quegli slanci di generosità che sono richiesti da un cammino già tendente alla santità ancora di più a quello che desidera entrare nella santità delle santità che era vita nel Dio in volere come Gesù esorta soprattutto nei primi volumi come meditando anzitutto per me stesso insomma ma anche mettendo condividendo per chi fosse interessato insomma alcune considerazioni e tante volte abbiamo visto come è necessario compiere una serie di gesti e di atti coraggiosi se per vivere nella Dio la volontà si è vicino di un profondo distacco da tante cose è distacco certamente innanzitutto affettivo ma molte volte anche effettivo pensiamo per esempio al giovane ricco insomma che dinanzi alla proposta di Gesù ha indietreggiato e se non darò triste quindi nella vita cristiana ci vuole indubbiamente un tasso di indifferente di coraggio coraggio che addirittura c'è un sacramento insomma che ce lo corrobora che ce lo soprannaturalizza diciamo così attraverso l'infusione della donna della fortezza che era la cresima quindi se c'è un sacramento per questa disposizione ci sarà motivo no? ecco perché questa è una cosa importante per le grandi scelte di vita ma è anche per le quotidiane scelte di vita no? perché poi c'è il coraggio che spinge ad agire e poi sono bellissima la virtù cardina della fortezza ci sono le altre parti della fortezza che spingono a come dire dare continuità all'agire che sono soprattutto la perseveranza e la costanza l'abbiamo visto tante volte no? il coraggio si esprime anche in quella che si chiama la magnanimità cioè avere un animo grande quindi puntare a cose grandi ecco duc in altum diceva Gesù prendete il largo e gettate le reti no? bellissime le considerazioni che in merito al suo tempo fece su questo versetto San Giovanni Paolo II che è una splendida enciclica duc in altum e insieme alla magnanimità c'è anche la magnificenza cioè il fare le cose in grande che non è lo sfoggio ovviamente lo sfoggio superbo insomma di grandi mezzi fatti dai potenti del mondo ma fare le cose in grande vuol dire curare la perfezione quindi le cose specialmente offerte dal Signore farle bene non badare non solo a spese economiche ma anche a spese di vita diciamo così alla fatica al sacrificio all'impegno che ci costa una cosa fatta per amore di Gesù ecco un'anima timida cioè che non che si trova sguarnita insomma di questa importante virtù cardinale non ce la fa Gesù ha le gambe legate e e quindi misura può andare a tutto dice sempre l'occhio liberamente non può camminare liberamente ha sempre l'occhio a sé verso di sé e allo sforzo che mette nel camminare e quindi non ce la fa allora è importante coltivare crescere perché come tutte le virtù queste sono soggette a mutazione a seconda di come e quanto le esercitiamo no? è chiaro che certe virtù sono maggiormente predisposte da certi temperamenti è chiaro che un temperamento collerico ha ordinariamente una buona dose di coraggio un temperamento collerico un po' più timido generalmente ma come sappiamo ecco un conto del temperamento un conto del carattere quindi noi possiamo educare anche la nostra attrezzatura di base e compensare correggere diciamo quelle mancanze strutturali che abbiamo attraverso appunto l'esercizio e e l'acquisizione di ciò che ci manca ecco io comunque amo le anime generose coraggiose intraprendenti anche nel bene e che si danno come dice San Paolo e che si danno e che donano al Signore molto tutto e con gioia ok vestici a Santa Vergine Maria dietro del tuo stesso straordinario coraggio ecco che fece della tua vita terrena un qualcosa di simile ad una Santa Leonessa ecco al seguito del leone della tribù di Giuda ecco che è nostro Signore e insegnaci ecco ad operare in questo modo amorevolmente divino che ci ha insegnato Gesù in tutte le cose e conduce sempre per mano ecco nel nel santo peso di ogni nuovo giorno ecco da abbracciare sempre con gioia e con amore da trasformare gradualmente in e quotidianamente in gemme e pietre preziose brillanti per il cielo dove aneliamo di giungere per godere in eterno e con la felicità senza fine che ora pregustiamo realmente anche se nel mistero nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo amore ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo amore fiat ave Maria